Dopo il lungo stop si torna in campo, Rauti, arriva il Montevarchi, subito la necessità di fare tre punti, sei d'accordo? Sì, sì, siamo d'accordo. Sicuramente è una squadra insidiosa, ce lo ricordiamo dall'andata, ma il nostro obiettivo è quello di partire col piede giusto in questo 2022. Nell'ultima gara che si è giocata è passato un mese, la gara di Ancona, sei partito titolare e hai fatto molto bene nel ruolo di esterno. Speri di ripartire da lì? Giocherai domani? Io sicuramente non so cosa decidere al mister, ma quello che spero e che voglio è che sicuramente posso dare il mio contributo in qualsiasi caso, sia dall'inizio sia a partite in corso, sono pronto. In questo mese di allenamenti sei stato provato più come attaccante centrale o più come esterno? No, più come esterno, ma comunque il mister mi fa variare molto e mi dà la possibilità quindi di imparare in tutti i tre ruoli d'attacco. Ti sta incominciando a piacere quello di esterno? Sì, sì, no, assolutamente. Anzi, poi dopo se vedo i risultati sono più felice, quindi credo più nei miei mezzi. Qual è la tua opinione su questo lungo stop a causa Covid? Sicuramente non è stato molto piacevole perché comunque ci piacerebbe giocare settimana per settimana in modo tale da non sovraccaricare poi dopo come sarà sicuramente febbraio, però sappiamo che c'è un problema importante, quindi ci adattiamo, siamo professionisti e il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti per ogni impegno che ci sarà. Qualcuno che capisce il calcio mi ha detto, occhio che il vero acquisto di gennaio del Pescara per il girone di ritorno sarà a Rauti. Spero che questo qualcuno ci abbia azzeccato e no dai, sono contento, sono convinto dei miei mezzi e penso che posso fare un girone di ritorno importante.